i segni che porti Giorgio le stimmate sono sicuramente quelle più viste nella storia dell'umanità quindi credo proprio milioni miliardi di persone hanno visto e ancora non si accontentano come valuti la risposta dell'umanità indifferente ti ha deluso no non mi ha deluso perché chi deve chi ha visto e crede siamo insieme chi magari ha visto e crede nel silenzio o mi rispetta senza bisogno di seguirmi o di credere a me mi fa capire che rispetta molto questo segno questa esperienza però la stragrande maggioranza del mondo è indifferente ma forse doveva esserlo perché questo segno malgrado c'è forse una contraddizione apparente nel messaggio che mi ha dato la madonna perché da un lato mi disse ti crederanno soli i tuoi fratelli e dall'altro mi disse lo vedrà tutto il mondo e allora che serve io mi sono detto perché tutti possono avere la possibilità eventualmente di credere però infatti mi hanno creduto solo i fratelli c'è poche persone poche rispetto ai miliardi ma stiamo parlando di qualche milione di persone giorgio attraverso di te la santa madre specificamente il messaggio che lei ha dato qui proprio a fatima nel 1917 che poi lo ripete in una forma più adatta ai tempi moderni nel 1989 che importanza ha questo messaggio per l'umanità terrestre in questo tempo ma secondo me il messaggio più importante che ha dato la madonna senza trascurare o sminuire gli altri messaggi di Garabandal, La Salette, Medjugorje, Lourdes, Lourdes si dice esattamente così o altre apparizioni Chibejo, Pegna Blanca, Borrello, la stessa apparizione modestamente che ho avuto anch'io questo è il più importante perché racchiude i cardini della cristianità del ventunesimo secolo del ventiduesimo secolo insomma del secolo questo e tutti i secoli a venire perché parla dell'intelligenza cosmica dell'autodistruzione dell'umanità con l'energia nucleare della seconda venuta di Cristo e della scisma della chiesa cattolica scisma non che si divide in dieci parti che cade la chiesa cattolica temporale finalmente viene fatta a pezzi e trionfa la chiesa cattolica spirituale il messaggio più completo di questo non ce n'è tutti gli altri messaggi della madonna sono tutti veri ma tutti trattano uno specifico questo tratta i l'apocalisse l'ultimo libro l'ultimo libro della bibbia lo racchiude il messaggio di fatima in una paginetta quindi è il più importante di tutti per questo mi ha mandato qui la madonna la fatima perché poteva semplicemente apparirmi come è apparsa a meggiugorio come è apparsa appunto a santa elpidio come è apparsa darmi un messaggio come lo sta dando attualmente in altre parti del mondo invece mi ha fatto venire qua perché desiderava la madonna e le potenze celesti che venga esaltato questo messaggio perché è il più importante ed è la profezia delle profezie la profezia dell'apocalisse l'apocalisse di giovanni è racchiusa dentro il messaggio il terzo il primo il secondo e il terzo segreto di fatto giorgio ho avuto il piacere e l'onore di accompagnarti nella grande piazza di fatima nel giorno dell'anniversario della più importante delle sei apparizioni e di fatto questa immensa piazza era praticamente vuota esso stesso è un simbolismo di questo che hai appena detto sì perché secondo me il messaggio di fatima noi cattolici miliardi di cattolici non l'abbiamo realizzato nessuno nemmeno i papi che lo hanno diffuso in parte quindi il vuoto della piazza di fatima significa il vuoto dei fedeli della chiesa che non ha compreso questo messaggio ma questo non significa che chi si deve salvare dei cattolici dei laici non si salverà